ok ciao ragazzi è un po che non lo faccio e mi è venuta voglia di farvi un piccolo tutorial su i programmi che utilizzo io per registrare i miei gameplay e i programmi che utilizzo per appunto renderizzarli con le relative impostazioni per avere un 4k come gli ultimi video che avete visto su youtube che secondo me cioè una qualità veramente veramente buona quindi se spero di interessi una cosa del genere partiamo subito con il programma che io utilizzo appunto per registrare i gameplay ovvero obs studio premetto io utilizzo anche un altro programma per registrare separatamente il video della webcam ci sono tantissimi programmi da poter utilizzare per per registrare il video della webcam io utilizzo action mirillis è un programma a pagamento poi se volete scaricare in modo strano o se lo volete acquistare basta che andate sul sito di action mirillis adesso si chiama action 4 potete acquistarlo io l'ho acquistato tantissimo tempo fa ho gli aggiornamenti gratuiti a vita quindi mi va benissimo utilizzare questo programma qua per la webcam e obs per registrare il gameplay perché faccio questa cosa perché poi in fase di editing quando vado a fare la color correction del gameplay posso farla separatamente dalla color correction della webcam che è una cosa importantissima perché non è detto che se tu vai a regolare i colori sul sul gameplay in automatico ti vengono perfetti anche sulla webcam nel maggior parte delle volte non è mai così quindi è sempre meglio fare due color correction separate in modo da poter per modo da poter avere una qualità ottima sia per il video della webcam che per il video del gameplay detto questo andiamo subito a vedere le impostazioni che io utilizzo su obs studio obs studio il programma più utilizzato da tutti per registrare appunto gameplay andiamo su impostazioni vi allargo la finestra così potete vedere bene come sono le impostazioni do per scontato che chi guarda questo video già sappia utilizzare bene o male obs per registrare gameplay quindi non sto fare un tutorial approfondito su tutto il funzionamento del programma vi faccio vedere le mie le mie impostazioni andiamo su uscita andiamo su registrazioni io come formato di registrazione utilizzo un peg 4 come encoder video nvidia mbeck ab1 che sarebbe l'h265 che è molto meglio dell'h264 sempre di nvidia questo se avete schede grafiche nvidia ovviamente dicevo è molto meglio l'h265 perché non lascia tracce di pixel nei movimenti veloci e il dettaglio il dettaglio molto più nitido quindi è molto meglio il file un po più grosso ma in molto molto qualitativamente molto molto meglio l'h265 che viene dato appunto da nvidia mbeck ab1 come encoder audio lascio quello di default due tracce audio perché anche in questo caso ho la traccia audio del gameplay e la traccia audio del microfono che è sempre meglio avere anche qui separate in modo tale da poter regolare in fase di editing la voce e il gameplay da non che si sovrastino uno con l'altro riscala l'uscita niente qui vi darà questo messaggio di errore ma non preoccupatevi io come impostazioni di encoder utilizzo un bitrate variabile velocità in beta costante di 185.000 base di 185.000 kilobits per secondo velocità massima in kilobits 192.000 voi direte la madonna però se andiamo a vedere quello che consiglia appunto youtube sui caricamenti 2k perché adesso noi stiamo registrando 2k anche se poi col programma di editing andrò ad up scalare in 4k però di base un 2k da caricare su youtube a 60 frame per secondo ti chiede appunto 24 megabyte al secondo di bitrate quanti kilobits sono 24 megabyte 24 megabyte al secondo sono 192 kilobits per secondo quindi il valore che noi dobbiamo andare a impostare quello massimo se utilizzate il bitrate variabile è appunto 192 mila 192 milioni sarebbe però qui sono chilobits per secondo 192 mila eccolo qua 192 mila kilobits per secondo quindi quello che noi andiamo a impostare qui è una base di 185 mila non al di sotto è una massima di 192 mila intervallo fotogrammi chiave di default è su 0 perché in automatico però andiamo ad inserire 2 premetto io ho un pc di fascia veramente alta una 40 90 o un i9 a 13.900 kf 64 gigabyte di ram e quindi posso permettermi di utilizzare un preset p7 che è il massimo più lenta migliore qualità se avete un pc di fascia medio alta andate che ne so a p5 o p6 lento qualità buona più lenta qualità maggiore e vi ci sta perfettamente se avete un pc proprio molto meno performante andate su p3 o p4 tuning alta qualità se utilizzate il p7 potete benissimo mettere passaggio singolo anziché due passaggi risoluzione un quarto quindi passaggio singolo profilo main perché c'è solo quello gpu lasciate a zero se è cercato questo dececcatelo e b frame massimi due che è di default andiamo su audio no andiamo su sempre uscita andiamo su audio mettete tutto a 320 così l'audio è molto più cristallino è molto più performante molto più buono su video io monitor 4k ma l'ho impostato proprio il monitor le impostazioni del monitor le ho messe a 2.560 per 1.440 per per giocare mi va benissimo così anche perché almeno mi tengo anche i frame un po più alti del normale anche perché io avendo appunto una 40 90 è un processore i 9 13.900 kf 64 giga di ram durante il gioco nelle impostazioni di gioco io le tengo a livello estremo quindi già viene da sé che la qualità dell'immagine è bellissima anche in 2k quindi mi fa benissimo impostare il monitor in 2k e non riscalare l'uscita da obs anche perché poi andiamo ad up scalare a 4k nel programma di editing valori di fps 60 su avanzate invece andate ad impostare come formato colore di default nv12 noi andate voi andate a mettere p 0 10 10 bit perché una profondità di colore molto più bella anche qui il file sarà leggermente leggermente sarà abbastanza più grosso a livello di dimensioni però la qualità è veramente molto migliore rispetto a un 8 bit normale spazio dei colori 709 limitato è tutto il resto di default queste sono le impostazioni che utilizzo io per registrare il gameplay adesso andiamo a vedere appunto come e che programma utilizzo per appunto renderizzare il video per renderizzare il video utilizzo da vinci resolve devo dire da poco perché prima utilizzavo sony vegas ma da quando ho provato da vinci resolve mi ci trovo veramente molto meglio allora aprite da vinci resolve io la versione free praticamente ha qualche limitazione nei filtri e qualcos'altro però per quello che ci devo fare io sinceramente mi basta e avanza se invece dovete farne un uso professionale magari valutate di acquistare la versione completa da vinci resolve in versione completa non da vinci resolve studio perché c'è la versione da vinci del studio che costa una fucilata ma da vinci resolve in versione completa mi sembra che siete intorno ai 300 euro comunque diamo per scontato che lo utilizzate come l'utilizzo io amatorialmente quindi va più che bene la versione free lo aprite come prima cosa andiamo nell'ingranaggio qui in basso a destra ci clicchiamo e andiamo ad impostare il project setting andiamo a dirgli che in master setting la timeline resolution deve essere 3840 x 2160 ultra hd ovvero 4k square importantissimo 60 frame per secondo 60 frame per secondo o mettete gli stessi frame che avete utilizzato in fase di registrazione nel mio caso ho utilizzato su obs 60 frame li vado ad inserire anche qui in video monitoring che praticamente l'anteprima che vedrete durante la fase di editing lasciate pure o impostate se non è già di default hd 1080p 60 andate a modificare il data levels che di default e subito vedetelo su full 10 bit come abbiamo impostato 10 bit anche su obs studio bilinear e tutto il resto qui sotto in optimized media and render shake su proxy media resolution lasciate su choice automatically proxy media format di default è h264 andate ad inserire h265 perché come vi ho spiegato è molto meglio optimized media resolution chose automaticamente ottimizza media format a un compresso a 10b render shake format un compresso a 10 bit tutto il resto di default andiamo su un magi scaling resize filter sharper lasciatelo così qui se non è su hig mettetelo su hig altra cosa importante qui andate ad inserire se non lo già di default scale interi image to fit qui e qui dopo di che andiamo su color management qui mi sembra che è tutto di default comunque date un occhio anche sul vostro dopo che lo aprite se è uguale al mio general option qui non mi sembra di aver modificato nulla camera raw no qui andate ad inserire hd 1080p 60 anche qui 10 bit full e tutto il resto di default si è anche qua tutto il resto di default su audio se non è impostato su 48.000 andate ad inserire 48.000 andate sui tre pallini qui andate su save current setting e present gli date un nome io l'ho chiamata questo present l'ho chiamato da 1440p a 4k lo salvate gli date l'ok lo salvate e ve lo ritroverete comunque sia sempre qui basta che lo selezionate load present e lo avete di default salvate e uscite dopo di che andiamo su media qua sotto in basso clicchiamo con il destro io li ho già qua andiamo su import media e andate ad importare nel programma tutti i file che volete utilizzare per creare appunto il vostro contenuto da caricare su youtube io questo che vedete qui è l'ultimo gameplay che ho caricato quello che cazzo è successo ah scusate questo è l'ultimo gameplay che ho caricato appunto il gameplay di natale però sbadatamente nel programma action merillis ho fatto pulizia e ho cancellato il file della webcam quindi qui vi farò vedere solo la traccia del la traccia video del del gameplay una volta che avete importato tutti i file che vi interessa appunto renderizzare per creare il vostro contenuto andate su edit prendete il vostro file i vostri file che dovete portare comunque per creare il vostro contenuto nella timeline io adesso porto solo questo tanto l'altra è la intro l'altra è la outro è quella la cornice della webcam vi faccio vedere solo due cose sulla timeline inserendo solo il gameplay una volta trascinato appunto giù il file video da renderizzare vi si creerà la timeline ci andiamo a cliccare sopra con il tasto destro andiamo su timeline timeline setting togliete il check da qui e se non è già inserito che ha riconosciuto il file adesso a me forse me lo riconosce in automatico perché avevo già creato comunque il preset comunque se non è così come lo vedete impostatelo così come lo vedete ovvero timeline resolution 3840x2160 ultra hd ovvero 4k square 60 frame anche qui scale interi image to fit andiamo su monitor che è quello che vedete per l'anteprima anche qui mettete hd 1080p60 togliete video mettete full 10 bit bilineare tutto il resto di default output che è quello che sarà il file in uscita quello che avrete creato che deve essere una volta dopo la creazione dopo il rendering e c'è il check su use timeline setting for output scaling quindi sa già che in base alle impostazioni che ho dato qui nell'uscita mi deve dare un 4k a 2160 ultra hd e anche qui scale interi image to fit chiedate l'ok e siete pronti per andare a fare il vostro editing del video volete fare tagli vi faccio vedere giusto due cose come si fanno fare i tagli se non avete mai utilizzato da vinci resolve se avete più tracce selezionate così tutte le tracce se avete la webcam se avete la la cornice o o qualche banner o qualcosa dovete selezionare tutto poi potete andare direttamente sulla lama qui oppure spostarvi con il cursore nel punto dove volete andare a fare il taglio comando da tastiera ctrl b in automatico vi fa il taglio dopo di che andrete a metterci una transizione tra una scena e l'altra che ne so facciamo un altro taglio qui ctrl b questa la selezioniamo tasto del andiamo a cancellare ci spostiamo un attimo e andiamo a inserire una una transizione le transizioni sono qua video transition le transizioni c'è un bordello di transizioni già nella versione free le limitazioni mi sembra che sono sugli effetti c'è qualche effetto che vi dirà che non avendo acquistato la versione A ve la dovete prendere in quel posto perché o acquistate il prodotto o non ce l'avete ma noi ci interessano in questo a questo punto ci interessano solo le transizioni perché io e quelle che uso cioè non vado a mettere altre cose se vogliamo mettere questa l'andiamo ad inserire tra in mezzo al taglio e se andiamo qui e gli facciamo fare play ci fa vedere comunque la transizione dopodiché una volta fatto questo una volta fatto questo possiamo regolare magari prima di fare il taglio possiamo regolare le due tracce audio ovvero alziamo un pelo quella del microfono e abbassiamo un pelo un pelo quella del del gameplay in modo tale che quella dell'audio è sempre più alta rispetto all'audio del gameplay perché l'importante è che si senta la voce cioè il gameplay viene dopo deve essere leggermente più basso però facendo così non è detto che per tutta la lunghezza del video la voce sia sempre più alta del livello dell'audio del gameplay perché può capitare che magari in un attimo che siamo qua che parliamo piano e nel mentre che noi parliamo piano c'è un'esplosione l'esplosione sovrasta appunto la nostra voce quindi cosa dobbiamo fare per evitare questo dobbiamo andare a fare un autolivellaggio del microfono rispetto all'audio di gioco per fare questo cosa dobbiamo fare questa è una cosa comodissima che c'è in Da Vinci Resolve e non c'era in Sony Vegas andiamo su Firelight qua sotto noi sappiamo che l'audio 1 è il microfono e l'audio 2 è la traccia di gioco quindi andiamo dal lato di qui audio 1 e audio 2 andiamo in questa finestrella ci clicchiamo due volte e ci si apre questo scusate andate a debilitare il compressor il ratio lo andiamo a portare a 5 5 e andiamo a cliccare su Send alziamo questo intorno al 4 4 e mezzo e praticamente facendo così dovete far conto che è come se ci sono due persone una parla e mentre una parla l'altra ascolta in questo caso lui facendo così gli diciamo che il microfono Send quindi è quello che parla e l'audio di gioco è quello che ascolta quindi si deve adeguare sempre al livello del livello appunto del microfono diventerà sempre una cosa costante l'audio del gioco non sovrasterà mai il livello della voce quindi una volta fatto questo clicchiamo su X e abbiamo impostato appunto il microfono fatto questo andiamo su Audio 2 che è la traccia audio del gioco sempre doppio clic sulla finestrella qui abilitiamo il compressor anche qui e anche qui lo portiamo a 5 però qui sotto non mettiamo Send ma mettiamo Listen quindi il microfono Send perché è quello che parla l'audio di gioco Listen perché è quello che ascolta deve solo ascoltare e adeguare il suo volume in base all'ascolto dell'audio del microfono quindi sarà sempre una cosa perfettamente livellata qui lasciamo a 0 lo lasciamo di default facciamo solo questa cosa abilitate il compressore portate a 5 questo e li cliccate su Listen dopodiché X e chiudete e le due curve sono a posto e l'audio sarà sempre livellato è una cosa fantastica dopodiché se volete andare a fare una color correction cliccate appunto su color qua sotto possibilmente prima di fare tutti i tagli fatelo subito magari scorrete il video guardate le zone più scure le zone più chiare e con questi strumenti qua sotto ovvero il color boost il lift la gamma il gain e l'offset e la saturazione e tutto il resto dettagli medi andate a regolare il tutto vedete con questo si abbassa qua aumentate un po' il color boost la gamma se lo vedete che è leggermente troppo scuro o il gain se vi trovate meglio la saturazione la potete alzare basta cliccargli sopra e trascinare verso destra per alzare verso sinistra per abbassare dettagli medi potete alzarli e vedete che si va a vedete se vado se vado verso il meno i dettagli si vedono meno se vado verso il più i dettagli si vedono molto di più ma state attenti a non esagerare perché andate a fare sgranare leggermente quindi se li alzate alzateli di poco di default mi sembra che è a zero si di default è a zero che ne so portateli a 18-20 ma non andate a esagerare magari fate delle prove perché sennò andate addirittura a a farlo sgranare il video a peggiorarlo invece che a migliorarlo potete fare anche un'altra cosa cliccate al centro al centro e gli date un punto poi qui vedete le righe grosse io tengo come riferimento quelle vengo giù gli do un altro punto qui e un altro punto qui e gli do tre punti quello centrale non lo sposto mai adesso cambiamo un attimo scena ecco magari andiamo in una scena interna ecco qui per dire e se vado verso l'alto leggermente verso l'alto qua e leggermente verso il basso qua e mi sposto magari di qua e di qua vedete come cambia fate già la vostra color correction in base a come volete voi stessa cosa nella traccia della webcam che vi ritroverete qui una volta che avete anche il file video della webcam ve lo trovate qui adesso qui ne trovo due perché ho fatto un taglio prima per quello vi dico è meglio che fate la color correction prima di fare i tagli perché almeno avete solo una traccia del gameplay e una traccia della webcam in modo tale da fare una regolazione unica poi c'è un comando adesso non mi ricordo qual è magari guardate qualche altro tutorial che se avete più tracce volete dare la stessa correzione la stessa color correction su tutte le tracce cliccate su una e non so cosa sinceramente l'avevo visto non mi ricordo come fare per dare la stessa la stessa correzione a tutte a tutte le tracce comunque basta che guardate un altro tutorial che parla specificatamente della color correction e vedrete appunto com'è la combinazione di tasti o la cosa che bisogna fare per avere la stessa correzione su tutte le tracce per rimettere tutto di default ci sono questi tasti qui anche qui niente fatto questo siete pronti per fare la renderizzazione del video quindi andate su deliver deliver qui voi avrete custom h264 h264 h265 tutto il resto delle preimpostazioni per poterli caricare sui vari sulle varie piattaforme che ci sono nel web c'è anche quella di youtube però io vi consiglio di andare su custom per la prima volta e di creare una configurazione e di salvarla dopo da qua vedete save us una volta che l'avete creata andate su save us new preset gli date un nome e ve lo salvate così in modo tale da avere appunto qui i vostri preset salvati quello che utilizzo io per l'upscaling da 2k a 4k è questo qua advanced setting praticamente qui gli date un nome al programma qui gli andate a dire dove andarlo a salvare io li salvo su storage renderizzati gli dico save e praticamente questo è il percorso di dove andrà salvato il file dopo essere stato renderizzato e le impostazioni che utilizzo io sono il formato mp4 il codec h265 encoder native non auto native deselezionate network optimizations risoluzione mettete 3840x2160 ultra hd frame rate a 60 o comunque sia il frame rate che avete utilizzato durante la registrazione perché è una cosa importantissima qui in automatico di default è selezionato su qualità automatica best toglietelo mettete restrict to e andate a inserire 192.000 kilobits secondo come abbiamo fatto su obs perché anche questa è una cosa importantissima encoding profile main keyframes anche qui di default è su automatic voi andate a metterlo su every di default è 30 andate dal 31 32 va benissimo qui sotto da video mettetelo su fall same as project same as project perché va a leggere in automatico le impostazioni che noi abbiamo dato appunto sul progetto e quindi si autoregola di conseguenza andate se non sono già selezionate a mettere il check su use optimized media e le ultime due force sizing to height quality e force debayer to height test quality una volta fatto questo andate su add to render quick ce l'avete qua render e parte il rendering nel mio caso col pc che ho io che è di fascia alta performante mi ci mette un file di 8 minuti e 4 secondi 5 secondi 8 minuti e 5 secondi mi dice che me lo renderizza in 11 minuti e 15 secondi è leggermente più lento rispetto a sony vegas perché con questo computer se adesso questo video lo renderizzavo con sony vegas mi ci metteva esattamente la metà del tempo della durata del video però qui ci mette un attimo di più perché mi va a analizzare perfettamente frame dopo frame quindi la qualità finale è veramente ottima vi assicuro che quello che voi andrete a vedere dopo il file che andrete a visualizzare dopo il rendering è come qualità leggermente meno rispetto a quella che voi vedete mentre giocate ma è della stessa qualità della registrazione che avete fatto quando voi lo andate a caricare su youtube la qualità è praticamente la stessa del file renderizzato quindi direi che è un'impostazione veramente ottimale quindi che dire qua adesso stop perché tanto non me ne frega una mazza di renderizzarlo che dire spero di esservi stato utile spero che questo video sia stato utile appunto a chi decide appunto di mettersi a caricare video su youtube e oppure magari deve scaricare video dalla 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 videocamera e non sa come renderizzarli spero sia stato utile quindi raga che dire se il video vi è stato utile se vi è piaciuto lasciatemi un like un commento se vi va iscrivetevi al canale se volete qualche approfondimento magari ditemelo nei commenti e noi ci becchiamo alla prossima ciao belli ciao